Ben trovati alle TG Medesport e ben trovato al responsabile delle produzioni sportive su TRM Salvatore Geraci, ciao Salvatore Un saluto a te e a tutti i telespettatori Partiamo dalle buone notizie per Iachini in vista di Latina Hernandez che aveva già fatto sapere di essere clinicamente guarito dopo l'intervento chirurgico per la riduzione della frattura alla mano destra partecipato con i compagni alla partita di allenamento contro gli allievi di Scurto e invece continua ad avere qualche problema alle polpaccio Enzo Maresca che ha spiegato in conferenza stampa da cosa nasce questo suo ritardo nel rientro in campo ma soprattutto ha spiegato che cosa si aspetta dalle Palermo nel breve e nel lungo periodo Ascoltiamo Come esperienza è stata e lo è anche in questo momento un'esperienza comunque positiva positiva anche perché ho conosciuto appunto come hai detto te un calcio nuovo ma soprattutto perché le cose sono andate bene quindi quando le cose vanno bene è normale anche trarre comunque delle considerazioni positive Poi ti ripeto per quanto riguarda il presidente l'allenatore io credo che anche se per quasi tutti è quasi fatta comunque ci mancano ancora sette partite quindi pensare all'anno prossimo magari è un po' prestino anche se ripeto credo che sia anche giusto farlo però per quanto riguarda l'anno prossimo credo che una volta che finisce il campionato il 31 maggio ci si può incominciare a pensare L'idea era quella di dare una mano alla squadra, all'ambiente e alla società per tornare in Serie A Ci siamo vicini e poi visto che come hai detto te ho un anno di contratto ma in questo caso al di là dell'anno di contratto voglio dire l'idea è quella di continuare ad essere qui e a fare quello che ho fatto da gennaio in poi cioè cercare di aiutare sia la società sia i compagni a quello che può essere l'obiettivo dell'anno prossimo che immagino sarà la permanenza in Serie A La domanda era nata da una tua considerazione Salvatore mi pare che la risposta di Maresca sia stata molto precisa e ci ha fornito anche tanti spunti di discussione Devo dire che è arrivato alla risposta precisa con qualche difficoltà nel senso che prima sai un calciatore, prima domanda, prima botta si è un po' diciamo tentennanti sull'argomento è arrivato a un certo punto lui ha detto candidamente perché poi è un ragazzo di un'intelligenza superiore è sempre attento, mai banale mi ha detto ma insomma vuoi che ti dica che sarò protagonista in Serie A che mi sento all'altezza e che voglio restare a Palermo e io gli ho detto no certo se lo dice è una cosa straordinaria, una cosa bellissima e lui l'ha confermato con un bel risolino ridicendo le stesse cose a me è sembrato un colloquio positivo da parte di uno che ha sperimentato un campionato come la Big e gli ha dato qualche problema però che si sente a posto fisicamente e quindi in grado di recitare un ruolo di protagonista nel prossimo campionato l'abbiamo già detto sarà uno Stadio Francioni esaurito perché in Latina è secondo in classifica arrivano due squadre in momenti straordinari sia il Palermo che in Latina con il Palermo che potrebbe festeggiare così come ha detto Maresca vogliamo la Serie A subito però in Latina non si tirerà indietro e soprattutto ha un bonus troppo importante da giocare bravo Luca perché abbiamo dimenticato per un po' di giorni non perché non ne riconosciamo il valore ma proprio per la grandezza del Palermo che c'è un avversario che è secondo in classifica che avrà tantissimi punti di distacco che però è una signora squadra che ha fatto il suo, lo ha fatto bene e che per certi versi è gemello del Palermo nel senso che ha le stesse caratteristiche del Palermo fermo restando un valore di mercato dei giocatori che è nettamente a favore del Palermo e non della Latina però questa squadra che in fondo rappresenta quasi un quinto o un quarto del Palermo ha fatto il suo bravo campionato e se mi consenti se il Palermo dice noi giochiamo per vincere non vedo perché loro debbano giocare per perdere, giocheranno proprio per fare la sorpresa tra l'altro ricordiamoci che una delle macchie del campionato di Iachini è proprio la sconfitta in casa con Latina e quindi una delle due sconfitte maturate da Iachini e quindi bisogna stare molto attenti Domani ci sono gli anticipi, la Serie B però prevede anche la trasferta a Castellammare di Stabia per il Trapani con il portiere Emanuele Nordi che ieri ha compiuto 30 anni che ha voluto ribadire lo stesso concetto presentato in conferenza stampa anche dal suo compagno di squadra Garufo ma anche al termine della gara con Boscaia bisogna ricominciare subito a vincere Ascoltiamo Emanuele Nordi Non è un momento bellissimo però la forza di un gruppo è anche magari mantenere sempre l'umore alto comunque rimanere uniti, rimanere gli stessi perché poi è l'unico modo per invertire la lotta Sicuramente è un dato di fatto che abbiamo preso un po' troppi gol ultimamente però sono momenti, sono periodi anche che vanno così che magari alla prima disattenzione veniamo puniti Ottimamente non siamo riusciti a limitare i danni però arrivarci particolari no perché è l'unico modo per uscire da queste situazioni e lavorare, parlare il meno possibile e concentrarsi al massimo per la prossima sfida che in questo momento la Juve stava a pensare solo a questa partita e nient'altro, è inutile guardare il passato perché non serve niente per guardare sempre al futuro ed essere ottimisti Mi pare che sia assolutamente scontato questo tentativo del Trapani di riagganciare dei play-off che sembravano una prassi Premesso che il Trapani ha già vinto il suo campionato è un problema solo di batterie se le batterie mentali e quelle fisiche sono, non dico cariche al massimo ma dico in buone condizioni il Trapani può centrare l'obiettivo tranquillamente perché ha dimostrato di meritarlo Chiudiamo la pagina delle calcio salutiamo Salvatore Geraci responsabile delle produzioni sportive su TRM Ciao Salvatore Grazie a voi, arrivederci Invece guardiamo questa giocatrice la vedete in foto Olesha Malaschenko, Ucraina a 22 punti per lei nella finale scudetto donne di basket con la passalacqua Ragusa che ha battuto 73 a 62 in gara 1 le campionesse in carica di Schio dunque questa serie che assegnerà l'ottantatresimo scudetto femminile parte bene adesso gara 2 e gara 3 si giocheranno sabato e lunedì a Schio dunque bocca al lupo alla passalacqua Ragusa vi ricordo che tutte le edizioni del TG Medesport le potrete rivedere su trmweb.it non ci sono altre notizie grazie per essere stati con noi e arrivederci Affari 9 valutazioni abbondanti quasi eccessive Piva l'edilizia che ti vizia Piva è cartongesso sistema tintometrico sistema cappotto intonaci guaina ferramenta idraulica rivestimenti dal cemento alla pittura a vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti aperti anche a pranzo Piva l'edilizia che ti vizia a Palermo via Galileo Galilei 106 Rotonda Viale Lazio infoline 091 784 6193 presenti anche su Facebook www.ediliziapiva.it attenzione pubblicità puoi essere tu il prossimo testimonial della campagna pubblicitaria Dimensioni Arredi candidarsi semplice realizza un simpatico filmato in coppia anche con il telefonino cerca la coppia Mi Piace su Facebook e pubblicalo entro il 31 maggio la coppia più votata diventerà protagonista della prossima pubblicità Dimensioni Arredi modalità e regolamento del casting su Facebook la coppia Mi Piace o su www.dimensioniarredi.it Abbondanti e generose come le valutazioni di affari in oro andrea remo a la